È morto sotto gli occhi del papà mentre si stava esercitando su una pista di motocross. Marco Celotto, 24 anni, residente a Motta di Livenza, originario di San Paolo di Piave, amante dei motori, questo pomeriggio stava allenandosi. Dopo qualche giro sulla due ruote, la tragica caduta. Il padre stava guardando il figlio quando la moto è volata a terra, trascinando Marco. Le condizioni del giovane motociclista sono apparse subito gravissime. Gli operatori del suo M118 sono entrati in pista per soccorrere il 24enne. Hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, Celotto stava effettuando un salto ed è caduto a terra. Sul suo profilo Facebook le foto della sua passione per le due ruote, le corse, le gare. Oggi a piangerlo un'intera comunità.